buongiorno buongiorno a tutti buongiorno a tutti amici bianconeri allora inizio questo video perché ieri è successo di tutto e volevo darvi il mio punto di vista per quanto riguarda le dichiarazioni di un grande per me un grande un grande grandissimo calciatore che è manzo kit che nell'ultimi quasi finito la carriera la juventus e nell'intervista giustamente lui ha detto ha difeso il suo allenatore anche perché nel momento in cui lui era la juventus allegri il connubio allegri manzukic ha fatto la finale champions league ha fatto anche il gol e quindi diciamo che giustamente lui ha dato diciamo un giudizio positivo di allegri ma purtroppo come sempre ci sono giudizi sempre negativi di altri canali che a me non mi interessa neanche fare nomi anche perché per me sono non ritengo persone mie come il mio pensiero quindi loro sono una cosa io sono un'altra io non farò mai ve lo dico farò mai 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 fidate non farò mai video di autocritica perché c'è l'allegri di giocatore come manzukic perché tutti questi giocatori qua anche se andato poco nel bene e nel male hanno sempre dato qualcosa di importante alla juventus quindi da parte mia qualsiasi giocatore che ha che in futuro verrà intervistato e di cui fa parte in questo momento quasi fa un paragone perché attualmente c'è l'allegri ma anche altri giocatori che hanno giocato sicuramente adesso magari più avanti andranno in pensione e comunque vada staccheranno di giocare a calcio verranno intervistati perché magari hanno giocato con sarri o compirlo io non sarò mai qua a giudicare qualsiasi giocatore non c'è nessun giocatore juventus che forse anche attualmente anche ce ne sono anche attualmente in campo che potrei anche dire ave cavolo cavolo ave non ti stai comportando bene non stai dando però sempre comunque è un giocatore della juventus gli si può dire quello che volete qualsiasi cosa però rimane sempre un giocatore juventus nel momento in cui va via o dovrebbe andare diciamo pende gli scarpini al chiodo e verrà a fare diciamo interviste su quello che è stato il passato su juventus sarò sempre il primo a difendere queste persone e queste persone qua a parte che prima di tutto sono persone uno ok sono persone e poi sono anche calciatori però quando uno lascia la carriera di calciatore diventa una persona e quando diventa una persona e non fa più parte dell'ambiente di calcio può dire quel cavolo che vuole però vedere continuamente 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 potrei finire fino all'infinito canali che sono comunque tifosi come mai juventini però che hanno purtroppo nel cervello un qualcosa che magari riscatta che ormai hanno questa mania di persecuzione confronti attualmente di quello che c'è attualmente in panchina alla juventus che loro qualsiasi cosa che venga fatto a favore di ex giocatore o qualsiasi altra cosa a favore di questo allenatore qua vanno su di giri e fanno canali sempre denigratori ma questo è ormai un'abitudine quindi ecco il mio il mio pensiero è completamente l'opposto e voi benissimo mi conoscete come sono quindi in considerazione sono una persona pacata non urlo mai cerco il dialogo anche sui commenti ma credo che comunque vada a queste persone non mi nomi inizialmente mi hanno cagato ma si vede che forse magari gli stava un pochettino sulle palle perché la novità no perché canali juventini non dico che ce ne siano poche ce ne sono abbastanza ma di canali juventini seri seri sinceri e ce ne sono veramente da contare sulle dita non è perché io mi ci metto mezzo ma sicuramente siccome io vivo da un bel po di tempo su youtube non è tanto da marzo ho già capito come funziona e quindi io fino a quando non avevo aperto fino a quando io avevo aperto il canale e seguivo i canali juventini però relativamente riuscivo a diciamo confondere oppure abbinarmi al tipo di pensiero che che avevano queste persone facendo youtuber juventino mi sono trovato veramente invece a confrontarmi con persone che veramente non lo so per quel motivo sono sinceramente tifosi della juventus se lo fanno solamente per interesse economico ci può stare però non è un tifoso juventus perché il tifoso juventus soffre critica ma non manda mai 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 a quel paese persone che attualmente giocano juventus perché hanno sicuramente ogni persona ogni persona ogni giocatore che vive nella mente juventus può sbagliare quella è la persona che non sbaglia nella vita non esiste gli sbagli servono per rimediare e per recuperare a volte ci si riesce a volte no non lo so però capitemi che il mio pensiero rispetto a quello che ho visto ieri è completamente diverso io manzo chi ce lo ringrazierò e anzi mi è dispiaciuto che ha smesso di giocare con juventus perché non so quanta gente magari non si ricorda che qualcuno ha detto che ha fatto pochi gol certo però noi in finale abbiamo in finale di Champions League abbiamo sperato con quella grande rovesciata di Mazzucic ok? e queste persone che stanno facendo video dei migratori nei confronti perché ha parlato con Allegri forse dovrebbero ricordarsi queste cose ma purtroppo i video si fanno solamente perché cosa? per che cosa? per che cosa? per monetizzazione monetizzazione ho detto bene monetizzazione e se vive qualcosa ma prima o poi la ruota finisce la ruota la ruota ritorna indietro ritorna indietro ritorna indietro ritorna indietro andrà via Allegri ok? arriverà un altro ineratore ma dovrete comunque cercare una soluzione perché prima o poi anche il ineratore che arriverà sbaglierà prima di lasciarvi dopo questa premessa anzi io questa volta ho fatto un video abbastanza lungo perché mi sembrava giusto anche rispondere a molte persone che sicuramente mi stanno seguendo su canale e ieri sera anche in live ho notato questa cosa qua e stasera c'è l'Inter io spero che sia una buona partita non falsata dagli errori arbitrali che ci sia una buona partita certamente incrociamo le dita speriamo di poter riuscire a prendere punti perché ormai le prime in classifica stanno correndo molto bene e niente vediamo vediamo un po' come finirà stasera teniamoci stretti tutti insieme perché il vero tifoso diventa veramente tifoso Juventino in questi momenti fino alla fine ragazzi buona domenica e ci ragioniamo Forza Juve Ciao